Ciao, sono Fabrizio, il volto e la voce di Helmat nella serie in tre minuti. Si tratta di diversi video che ti aiutano a potenziare i tuoi progetti. Ogni appuntamento è una bussola che ti indica la direzione da prendere per implementare soluzioni che vanno oltre tutto quello che hai fatto finora. E lo fa in soli tre minuti, meno del tempo che trascorre in pausa caffè. Oggi ti voglio parlare dell'importanza dell'audio nei progetti di videosorveglianza, in particolare della soluzione di Axis Communications. L'audio amplifica i tuoi progetti rendendoli più efficienti. Voglio parlartene citando l'esempio di tre casi reali. Innanzitutto vediamo insieme tre motivi per cui il sistema audio è indispensabile. 1. La sicurezza. 2. Gli annunci. 3. L'atmosfera. Partiamo dalla sicurezza. L'audio si attiva in una situazione di potenziale pericolo per risolvere un problema o quando si verifica un determinato evento. Gli annunci. L'audio serve per diffondere annunci anche in zone diverse. Gli annunci possono essere diramati in real time oppure pianificati. 4. L'atmosfera. Gli altoparlanti emettono la musica di sottofondo. Queste sono le potenzialità dell'audio che puoi implementare fin da subito per i tuoi clienti. Ora ti faccio qualche esempio pratico. 5. La protezione del perimetro. Il ladro che tenta di entrare in un'azienda viene visto dalla telecamera di videosorveglianza che fa partire l'annuncio registrato negli altoparlanti. Il malintenzionato viene fermato. 6. Gli annunci programmati. In un liceo scientifico sta per iniziare l'assemblea d'istituto. Un annuncio si diffonde un'ora prima dell'inizio per ricordare agli studenti e agli insegnanti l'appuntamento programmato. La musica. Un grande centro commerciale con più piani ha un sistema audio che diffonde la musica e che al tempo stesso gli permette di diramare gli annunci sulle promozioni in corso dei singoli negozi. Ma quali sono i vantaggi di Axis? Se scegli il sistema audio e la videosorveglianza Axis hai tanti vantaggi. Implementi tutto utilizzando un solo strumento. Strumento che per di più si integra con altri dispositivi e applicazioni, così l'installazione è più facile, credimi. La flessibilità e la scalabilità. Adatti il sistema Axis alle esigenze di ogni cliente e lo replichi in tutti i progetti che vuoi. L'attivazione dell'audio, controllo della videosorveglianza e pianificazione degli annunci. Anche la gestione si fa con un solo strumento, così il cliente è più contento. Spero di averti dato degli utili suggerimenti nei tre minuti a mia disposizione. E non voglio rubare altro tempo alla tua pausa caffè. Se vuoi approfondire qualche dettaglio scrivici un commento oppure manda una mail a treminuti-helmat.com. Se sei un rivenditore o un sistema integrator puoi anche registrarti al nostro portale www.helmat.com per scaricare i materiali informativi e per conoscere i prezzi e le disponibilità. Spero che questa serie video ti possa appassionare e se così ti aspettiamo presto al prossimo appuntamento!